teatro comunale claudio abbado stagione concertistica 2017 2018 una stagione che si riconnette con la propria storia che riscopre le proprie radici in cartellone ancora una volta le grandi orchestre i migliori solisti e i direttori più richiesti del panorama internazionale a Continua la campagna abbonamenti vendita biglietti per tutti i concerti